Così, come è stato per me fin dall'inizio, vi chiederete se ciò che state per ascoltare ed assistere sia pura fantasia, forse una favola, un romanzo. Qualsiasi sia la risposta, sono convinta che apprezzerete la bambina sbarazzina e gioiosa che è in me, o la ragazza frivola che ha negli occhi le meraviglie della vita, o forse la donna che ha scelto di resistere. La mia è stata un'esistenza normale, in una famiglia felice, destinata ad essere felice. Ho vissuto tante vite, intrecciate da gioie, sofferenze, sacrifici, amore, odio e violenza. Ho avuto paura, tanta, ma ho conosciuto anche il coraggio e l'orgoglio. No, non credete a ciò che vi racconterò, poiché se fosse vero, non sarei qui. Bisognerebbe spiegare l'inspiegabile, spiegare perché le persone che amavo non ce l'hanno fatta. Ma qui, tutto è inspiegabile. Mi chiamo Vittoria Gorizia Nenni, sono nata ad Ancona il 31 ottobre del 1915 e ho vissuto l'unica vita che avrei voluto vivere.